Dice Stephen King che se leggere un romanzo è come avere una lunga e soddisfacente relazione sentimentale, il racconto è invece come ricevere un bacio nel buio da uno sconosciuto. Durante questo corso, che è dedicato alla narrativa breve, faremo sostanzialmente due cose. La prima, più pratica, sarà lavorare sui vostri racconti per cercare di capire quali sono i loro punti di forza e le eventuali debolezze. La seconda, che è più teorica ma è ugualmente importante per imparare a scrivere meglio, sarà prendere i racconti di grandi scrittrici e di grandi scrittori e provare a smontarli per vedere come funzionano. Scopriremo che sono dei meccanismi molto molto complessi, anche più complessi di quello che potrebbe sembrare una prima lettura e soprattutto scopriremo che sono dei meccanismi di altissima precisione, in cui ogni parola è importante e in cui nulla può essere lasciato al caso. Studiremo quindi che cosa rende efficace un incipit, quanto è importante la struttura nell'economia di un racconto e infine parleremo di dialoghi, di personaggi e di punti di vista. Io sono Michele Ortimanara e vi aspetto al nuovo corso online della Scuola Holden, il racconto un bacio da uno sconosciuto.